Io sono stato in aula tutto il tempo ad ascoltare la relazione dell'assessore Gaeta, che non si è fermata un attimo, forse senza nemmeno bere un bicchiere d'acqua, e in 5 anni e mezzo non mi era quasi mai capitato di ascoltare una relazione così lunga, articolata, precisa, credo circa 90 minuti. Io ho guardato con molta attenzione che la Valente credo sia stata presente per 20-25% dell'intervento dell'assessore, Lettieri meno pure, la Garfagna un pochino di più della Valente, ma anche tutto il resto dell'opposizione tranne qualcuno sono stati sempre fuori. Credo sia molto grave, molto grave perché fa comprendere chiaramente che l'obiettivo dell'opposizione non era e non è quello di fare una discussione sul sociale, era quella di metterla a confusione, di fare un po' di ulteriore propaganda politica, soprattutto in questo momento di campagna referendare e tentare di strumentalizzare una vicenda che umanamente trova tutta la nostra sensibilità, oltre che l'impegno politico, che è quello delle 106 operatrici sociali che ogni tanto cercano in qualche modo di tirare per la giacchetta, mentre invece è un tema che va affrontato con molto senso di responsabilità, coinvolgendo tutto il Consiglio, l'amministrazione, ma soprattutto la Regione e soprattutto lo Stato, visto che è una competenza, come è stato detto anche oggi, del Miur, ma noi cercheremo di dare il nostro sostegno. Secondo me è la prova proprio lampante della strumentalizzazione dell'atteggiamento irresponsabile dell'opposizione che non hanno ascoltato, quindi se tu non ascolti che critichi. Per il resto invece la discussione in Consiglio serve anche per evidenziare eventuali criticità della relazione, eventuali lacune, eventuali miglioramenti, perché noi non è che siamo i depositari della verità assoluta. Quello che posso dire è che questa amministrazione ha fatto per il sociale più del dovuto, perché con le risorse date è intervenuto anche in ambiti, settori e strategie, dove con le risorse che avevamo e con le lacune di altri organi istituzionali c'era il concreto rischio che non potevamo intervenire. Vedi la vicenda che abbiamo fatto con Napoli Sociale e Napoli Servizi, tutto il resto delle attività sulla qualità della spesa sociale, l'intervento da ultimo sui migranti, quello che stiamo facendo sui campi rom, ne abbiamo discusso anche ieri nel Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica. E anzi abbiamo, come dire, questa seduta era importante perché standoci il 5 dicembre, una riunione importante in Regione era anche quello con il contributo anche dell'opposizione, che tra l'altro con il Partito Democratico governa in Regione, quello di sensibilizzare. Ma si è capito da subito, prima con l'articolo 37 di Marco Nonno che cerca ancora una volta di strumentalizzare la vicenda delle 106, poi la Valente che non si è visto mai, la Lettieri che è ricomparso dopo sei mesi di oblio per non stare manco un minuto in Consiglio Comunale a ascoltare la gaeta, insomma è chiaro che l'hanno messa in strumentalizzazione politica, in propaganda, questo ormai è chiaro.